OJ-AX sei appena sceso dalla nostra pace boat, sicuramente sei una persona abituata alle emozioni ma come ti è sembrata questa in particolare? Eh che sono molto grato, ma un po' vi odio anche perché adesso sono completamente già addicted ho bisogno di comprarmi uno di ste cose, di iniziare subito perché veramente l'adrenalina è a mille sono super infottato ancora adesso, vorrei tornare subito e passarci il pomeriggio tra l'altro rompere la pace del Lago Maggiore così non ha prezzo E fra l'altro tu sei un abituato del Lago Maggiore, come ti sembra questo evento, queste emozioni? Eh è veramente qualcosa di molto utile, penso che sia Stresa sia un po' il fiore all'occhiello del Lago Maggiore e che questa manifestazione sia il fiore all'occhiello di Stresa Boh grazie mille, un saluto e a presto Grazie a voi e siccome siete dei pazzi adrenali junkies mi state tanto simpatici, ciao Grazie a voi e siccome siete dei pazzi